E' arrivata la prima colonnina per la raccolta differenziata olio alimentare all'esterno in questo caso di un centro commerciale qua a Rimini. Sì, siamo all'interno di un grande progetto per la raccolta degli oli esausti di produzione domestica. Abbiamo già iniziato nei mesi scorsi installando colonnine in sede stradale, a Rimini ne abbiamo già installate 15 che ci hanno consentito di raccogliere in pochi mesi 18 tonnellate di olio esausto. Adesso stiamo passando alla seconda fase di questo progetto che è quello di installazione di colonnine presso centri commerciali. Questa è la prima di tutto il gruppo ERA, da qui alla fine dell'anno raggiungeremo decine di altri centri commerciali in tutto quanto il nostro territorio fino a servire circa un milione di abitanti in tutte le province della Romagna e dell'Emilia Romagna da noi servite. Quello dell'olio è un progetto importante perché nonostante le quantità tutto sommato limitate, l'olio però è un prodotto difficile da smaltire e soprattutto pericoloso per l'ambiente se viene smaltito male, se viene conferito male, se viene disperso nell'ambiente. Per cui da questo punto di vista ci stiamo impegnando per far sì che questo prodotto che è pericoloso per l'ambiente ma può avere un grande valore energetico se viene utilizzato correttamente, venga raccolto e riutilizzato perché questo olio viene tutto quanto riutilizzato. Direttore, il vostro centro commerciale ospita questa prima colonnina per la raccolta differenziata di oli alimentari, aiutate in questa maniera l'ambiente anche voi? Certo, per noi è un motivo di soddisfazione, fra l'altro come dicevo prima questo centro è stato costruito quasi nove anni fa ma costruito con i principi della sostenibilità ambientale, quindi questa è un'integrazione diciamo così di quello che già da tempo è il nostro centro commerciale. È un motivo di soddisfazione anche perché noi pensiamo sempre che i centri commerciali debbano cambiare, non debbano essere solamente dei luoghi, giustamente luoghi di lucro, luoghi del commercio ma anche luoghi integrati nel tessuto sociale della città e questo è un esempio proprio di integrazione, perlomeno è quello che noi vogliamo essere e vogliamo fare. Grazie. 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 Grazie a tutti